Bene, siamo pronti per andare a sud Non con coal, ma in realtà mi conviene Sì, facciamo al volo così, va, viaggiamo di qua Tanto ci mette X secondi E poi facciamo il giro verso Verso south Ci farà magari delle trasportare, tipo, che ne so Qua O qua O qua Oh, bono? Oh, no, almeno ci mettiamo meno, cavolo, se no Senza fast travel, signorio Gattone appeso ai coglioni Questo posto è molto figo Ha il neo di Non essere molto comodo da navigare per uscire ed entrare Non ho la sbatta di impararmi come è fatto questo posto, onestamente Voglio solo uscire da qua Per favore, fatemi uscire Cos'è questo? La porta è chiusa Si pole Si pole Allora, ora scendiamo qua a sinistra Vediamo che succede da questa parte Da questa parte Se riesco a trovare il pertugio dal quale scendere Spero di non dover fare tutta la strada all'indietro E andare dove stavamo prima per scendere No, però eravamo già scesi da questa parte qua Quindi qualcosa ci deve essere Sommeting, sommeting E' certo che questo era il porto di Crestwood Dove c'è l'erba esile Che qua prima c'era l'acqua, no? Si, 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 si Infatti ci sono le alghe abbassate Sono questi tocchi di classe Le alghette così Ehi là Madonna, ha toccato cosa? E' esploso Guarda fu Ma porco due Ha toccato call E call è esploso Ma mannaia la miseria Povero call Eh, qua c'è roba, eh C'è questa cosina qui C'è Quella cosina lì e basta No, vabbè, qualcos'altro ci sarà Dai, dai, vediamo, eh Vedo un Qualcosa lì giù Vediamo prima questa casina Ma questa già Ma vaffanculo Ma qua è sopra dove non c'era l'acqua prima Beh C'eravamo già venuti Questa casina è una truffa Ma vediamo qua giù se c'è qualcosa Che botta che ha preso call Mortacci Debredo Ebbè farò il giro per uscire Di qua noi c'eravamo già andati No, poi avevamo visto tutta sta parte di qua Verso a Crestwood Vecchia Sì che noi eravamo scesi da lì in realtà Da qua dietro Sì, 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 sì Ora rimembro Ora rimembro Mi sembra passato vent'anni Invece era solamente ieri Che stavo guardando questa zona Da questa parte forse Saltellando riusciamo ad arrivare da qualche parte Questo l'avevamo già attivato E poi tutto sommato Abbiamo mezzo finito Sta zona Possiamo a quel punto Andare verso Andare verso nord Verso nord Verso la Main quest E vediamo che succede Però qua Vedi che c'è qualcosina Sti catenacci giganti Ah C'è del depredo Soldo Questa era roba che stava sulla nave Immagino Questa nave affondata Vabbè i soldi fanno sempre piacere Dell'ossidiana Che male non fa Poi dopo ci teletrasportiamo indietro Perché nessuno Ain't nobody got time for this E un bel muro invisibile Già Ok Quindi la nostra missione Adesso direi che Uscire da questo lato qui Ah qui era dove c'era il coso Tra l'altro Il drago Vogliamo andare verso il drago Ma facciamoci il drago ragazzi Ma facile No Diario Viaggia Facciamoci il drago Dobbiamo trovare il modo Però per scendere Senza spaccarci Tutte le Anche le gambe Tutto insieme In combo Per uscire Allora perché qua si esce Dal lato nord Oh per uscire Dall'altro lato Che cazzo Come è fatto Sto posto Ce capisco E' questa porta qua Per uscire da là Secondo me Oddio Può essere davvero Fa vedere un po' Può essere sul serio Ma non mi dì Ci ho preso così A caso E mi sa che era proprio questa No però questa qua Usciva da dove c'era la Na Nei Nei Quasi usciva dove c'era Quell'entrata con Con le grate Se non ricordo male Sì infatti Ricordo bene Ricordo bene E qua era Da questo lato qui No 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 Ritorniamo Ma non è sto posto di merda Su sta cosa Mi da un fastidio Che non riesco a capire Come cazzaccio Se esce da quel lato Allora quest'altra porta Portava dentro Non ci frega niente Vediamo un attimo Il mercante E vendiamogli la roba Inutile va Te vanno tutto Sì Te vanno Ci abbiamo scudi Incredibili Lame Incredibili Anche roba Farlocca Maglia dello Sguattero Potenziata Resistenza All'elettricità Penso di aver venduto A sufficienza Allora Vediamo un po' Vediamo un po' Che voi Se mi conoscete bene Sapete che io sono uno Che nel menu del vendor Ci passa il tempo Ci passa il bel tempo Ma Ma Se il menu È del vendor Che sta sulla PS4 E non sul PC Mi sfastidio E cerco di starci Il meno possibile Perché effettivamente Il menu Ah no Qua c'è la cosa Il menu Sconsolloso Lo sgami subito Ed è proprio Un cesso Da usare Proprio un cesso Peccato Perché il resto È molto piacevole Come cazzo si esce da sud Io non lo so Questo posto Lo voglio radere al suolo Non voglio più stare qua dentro Voglio tornare a casa Qua torniamo indietro Perché mi dovete confondere Come si fa qua Come si fa Dove va questo Cosa fa Pazzo Prende le scale Prende le scale Anche perché Qua giù Non è che ci sia Niente A livello di porte O cose Da Dieci entri Beh Attentite Io esco da qua E poi vado qui Come l'altra volta E arrivederci Passiamo Dalla forca Come abbiamo fatto La scorsa volta Che penso che Penso che Legge e scrive Funziona bene Buttassete sotto Alla forca De Bredo Questo non l'avevamo visto Sella Magari si vende Questo Che poi tra l'altro È ora che io metta Cassandra In team In team E anche Blackwall Per un paio di secondi Anche solo per dare loro La roba che ho La roba che ho rimediato No? Che abbiamo Degli oggetti nuovi Degli scudi Delle spade Cose varie Quindi La falude nera Ma io me ne voglio La falude nera Non ho fatto nulla Ma ok Ci eravamo andati pure ieri La falude nera Però voglio andare Proprio lì Dove c'è il dragozzo Che mi sembra Il momento buono Per combatterlo Questo A great moment To fight Però Qua sopra C'è questo coso Che non so come si raggiunge E sicuramente Devo piantare la cosa Là dentro Quindi andiamo un attimo Quassù Vediamo Questa mappa è una figata Comunque Veramente gigante Sì Reclamo Una tazza e una bottiglia di vino Indicano che questo luogo Ben riparato Un tempo doveva essere Ben riparato Famoso per la magnifica vista Qualcuno ha inciso Milton e Lonnie Sul lato della panchina Ora la domanda è Veramente ce l'hanno inciso Non lo so Perché non riesco A zoomare abbastanza Per capirlo Qua giù abbiamo Dei mobs Uh Ah no Quello è un coso Il drago Secondo me Questo intanto Lo facciamo Scomparire E arrivo No Vabbè Me lo ho sbagliato Facciamo pure lo sbruffalo Qua E vedevo Mamma mia, lei vuole mega frecce Guarda che danni Lo sdruffalo diventa amico nostro Va bene Porca miseria che danni Sì, vabbè, quella sarà l'arena del drago adesso Dai, abbiamo capito Ora che si è svegliato possiamo ucciderlo Spero che non sia super hard O meglio sì, spero che sia un bel fight Ci ha visto? Ci ha visto? Ci ha visto? Ah! U la la, u la la, u la la Ragazzi Niente, non ce la può fare L'intelligenza artificiale non c'è Non è presente L'intelligenza artificiale Mi spiace Niente, questi si devono buttare Allora Allora, qui avete questo cerchiolino Qui siete linkati, no? Dovete stare uno lontano dall'altro Tu ti metti qua Ti togli dai coglione Non ce la fa, non ce la può fare Niente, non riesce Ti devi levare dalle palle Devi tirare su lei Sì, ragazzi Stanno proprio tutti rallentati Questi qua C'ha tanta vita Il problema è che dobbiamo riuscire a Abbiamo perso una marea di HP Proprio subito, subito In early Che è grave come cosa Devo dire Però magari riusciamo a Quindi basta che state lontani Tac Ah, ecco Questo era il problema Che c'erano loro Devi stare staccata Dagli amici Ok Devi fare questo Benissimo Mamma mia Questa visuale Ragazzi Fai cos'è Ma cos' che cazzo è Cos'è questa Ma chi l'ha disegnata Delinquenti Maledetti Maledetti Allora Vai Piggiamo tutto Il piggiabile Qua Piggia questo Fogli un milione Di danni Vabbè Che lui esploda Ci sta In realtà Io quasi tornerei Col Però chi posso Levare In quel caso In realtà L'abbiamo quasi Ucciso Vai a Vai a Arrestare Lù Minchia Arrestalo Sta tutto scemo Questo Tutto pagliaccio Super Pagliaccio Super Impagliaccito Vai a Arrestare Va E Toglietevi Dalle palle Uno dall'altro Madre mia No ma che giro fa Me sta bene Dietro Vediamo Vediamo Mi sa che ne becco dei danni Questo si è avvicinato Tira Tira lo scudo qua E levati 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 No 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 Levati 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 Ok Lui l'ha tirata Questa qua Tira su Pure lei Va Vabbè Lei riesplosa Un'altra volta Nel senso Esploso Anche lui Va bene Quanto gli manca Non molto Me la sto giocare Un po' Malino Non bene Come vorrei Sera Vieni qua Dietro Porco Dincis Possiamo farcela Con sto team Qua Però non c'è Quel benvenuto Brutto Che ci ha dato Prima Che mi ha Tipo Levato 7000 HP Instant E ho dovuto Droppare 40 pozze E è stato Proprio grave E devo posizionare Bene loro E devono stare In un posto Lontano Da questo Da qua Perché sennò È grepe Poi il problema È che Fanno cagare I personaggi Come Come rispondono Ai comandi Se non fosse Per quello Guarda Sarebbe tutto Molto più facile Ma Purtroppo Una pozzettina Ma aspettiamo Che scenda Eh Se devono muovere da soli Io se gli dici Di stare fermi Non riesco Più forte Di loro Cioè Mo che ha tirato Il bombone Oh Meno male Che l'ha tirato Dietro l'albero Oh Eh Ok Vediamo se riesco A farli muovere Ma sicuramente Non riusciranno Perché sono Super Pagliacci Ecco Il c'è passato C'è una miseria Ma che Ma che fa Quest'altro Perché Perché non ci state Dentro ragazzi Perché No Perché non ce la fate Però Fammi caricare Un attimo Partire Mi infastidisce Il modo in cui si muovono Regà È proprio una cosa Che mi fa Mi fa venire L'orticaria Divento proprio Autistico Solo a guardarlo Questo Meccanismo di merda Dall'alto È proprio L'ordo Eppure Esploso Il videogioco Stiamo Ritornando Sul posto Visto che Il gioco È crashato Ho colto L'occasione Per cambiare Il team Ovviamente Regà Check Double check Rimaniamo Su incubo E uno Chiuder Il gioco E poi Cambia La difficoltà Però la cosa Ok Lo aggrado La faccenda Era che Voglio Cercare Di Fare fuori Quest'attrezzo Spero che Non mi si Mettano Tipo Come si dice Le ganascia Le meningi Usando troppo Questo sistema Orrendo Però ci serviva Un tank Quindi ho voluto Portare blackwall Così almeno Io ho messo Anche questo Scudo nuovo Fighissimo E l'accetta Quella che avevamo Trovato E poi abbiamo Lo scudo Quello di livello 16 Che è ancora Meglio Che poi magari Lo metto a Cassandra Vediamo un attimo Che fa sto Cos Come tirerà La sua palla Maledetta Anzi Facciamo una Bella cosa Li metto Un attimo Su hold Metto Lui qua Tu qua Tu qua E tu qua Anzi In realtà Facciamo una cosa Metto Lui qua E blackwall Qua davanti Tanto Mo tirerà La sua Palletta Di merda Sicuro Oppure Conviene Andare Lì sotto Dove sta Lui Può Essere What Ci arrivo A menaglie Da qua Se lui Non mi viene Addosso Io Non è che Vado Lì sotto Nel senso Non è che Mi preoccupo Della cosa Ehm 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 Blackwall si è Teletrasportato Maledetto Lui Lui Secondo me Lo mandiamo Giù Abbastanza Easy Però Dorian Deve Mettere La bomba Quella Cruda Questa Che la deve Fassaltare In aria Perché lei Sta prendendo Ah perché Lei sta Vicina A Cosco Levati Dalle palle Sta tentando Di volare Il ragazzo Ma Sarà Tutto Inutile Mi sa Che sta Per tirare Un colpo Di coda Spostiamo Le persone Un po' Più Lontane Io Mi fido Ben poco Che cazzo Fa Quest'altra Ma Porco Due Un po' Il suo sistema di movimento E' veramente obrobrioso E' agghiacciante Allontanatevi E niente Non ce l'ha niente lui Di tutti i posti Dice no guarda ma io mi devo proprio mettere Attaccato a lei perché devo ucciderla Perché sennò non sono felice Deva ti dai coglioni Che cazzo è sto pathfinding qua Cos'è Perché quest'altro sta venendo ad assassinare La sua alleata Perché non c'hanno l'intelligenza Guarda l'Odorian un'altra volta Perché siete così stupidi Perché quest'altro sta facendo questo Io regalo Non riesco a capire Che problemi c'hanno sti personaggi Che cazzo gli dice il cervello Cazzo è morto Blackwolf Non so neanche Blackwolf Vai a... Guarda che sale Mamma mia che vitaccia Questa qua l'ha presa No stranamente non l'ha presa Ragazzi non c'è la... La cosa che mi manda armanicomio È perché se deve muove Cioè Perché cazzo non stanno fermi Dove gli dici di stare Cioè lei deve letteralmente stare immobile Pure lui si è avvicinato a buffo Non riesco a capire perché sono così stupidi Cazzo Lei è un imperativo Un imperativo che non muoia Oh non mi ha preso Non so come Molto bene Eh cazzo Vabbè però la posso tirare a su Ah lirra Dorian Ti levi dai coglioni Per favore Ti metti qua Mannaggia il tuo pathfinding Ho sbagliato la cozza Non riescono però Più forte di loro Se devono suicidare sui mob Dove cazzo è quell'altro imbecillo Dove è andato Era morto tipo qua da sti pizzi Dorian è morto qua What? Scusa Ma che cazzo Ma era morto qui Ala Non so Ragazzi non so che dirvi Non li vedo Era morto qua invisibile Ce l'avevamo quasi fatto Abbiamoci riproviamo Porco due Comunque Cioè praticamente Allora a me la cosa è che Se l'intelligenza artificiale Degli uomini fosse spenta Cosa che io spesso faccio Sono felice Sono felicissimo Se sei spenta L'intelligenza artificiale Ma come succede Su Back 4 Blood Sapete giocato a Back 4 Blood Con i bot Una cosa è Una cosa è l'intelligenza artificiale Spenta Una cosa è che Un'intelligenza artificiale Come sul due E su questo Tra l'altro Che attivamente cerca di sabotarmi Allora lì Mi lo do il culo Perché dico Cazzo Ma basta che stai fermo E fai le cose Le tue spell E io poi il resto Lo faccio volentieri Anche se questo sistema È brutto Però non mi sabotare Almeno Porco due Guarda lì là Vai Questo tira la bordata Ragazzi La tira La tira Allora Vagli sotto Agralo Lei Perché devono andare così vicino Ma che problemi Ci avete Allora Tu mettiti qua Tu mettiti qua E tu Mettiti Ma che cacchio Ne so io Di qua Ok Ci siamo Blackwell Sta assogando Il giusto Ma non c'è Nessun problema Perché noi Ok Stiamo lontani Di un'italia Come cazzo Si fa Dov'è Blackwell Allora Sta qua Vai Se non ti sposti Te faccio Le cose Bonnie Che mo c'è pure lei Per qualche motivo Qua in zona La spostiamo Adesso ci avvicina Tutti quanti E rompe I coglioni Al cosmo Ok No lui pure Sta appiccicato Lo spostiamo qua E lui lo spostiamo qua Via 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 La polizia Benissimo Diamogli lo scudo A lui Io non capisco Perché stiamo menando La zampa anteriore Quella posteriore Poi il Nito del turlo Minchia Mille e tre Gli fa Sta bomba qua È veramente Super potente Tra quello che fa lei E le bombe Di Dorian Regà Senti A lui Lo faccio Passare Perché lui È così Vicino Mo Dorian Ha preso Una botta Ragazzi Infinite No Dai Questo Non era legale Sta cosa Non andava Non era Era completamente Illegale Sta Situazione Che è accaduta Vabbè Lei Penso che Potrebbe Fare Questo E fare Una fracca Di danni Prima di crepare Dove siamo Ma che cazzo Sta succedendo Dai che è quasi morta La black wall Curati Vai addosso A questo Tiragli Questo Subito Sfidalo Ma lo fa solo Con quell'intorno A te La sfida Tu Rianima Lei Che è ancora Per aria Vediamo Se riusciamo A rianimarla Ok Non mi pare Proprio Vabbè Lo uccideremo Così Com'è La mina vacante Fa veramente Il bozzo E' l'unica Vera spell Che vale la pena Di usare Ogni volta E se Vanno uno Vicino all'altro Cioè Proprio E' matemà Non riescono Perché Dico Io stavo qui A combattere Il boss Non è che Dici Rimango qui No Vado vicino Ad alla Perché così Saboto Tutto Allora Spostati Cioè Posso capire Adesso Che dici Quando ti Quando ti Avvicina No In quel caso Lì Lo comprendo Che lo faccia Sto giochino Ma in altre situazioni Non c'è proprio Alcun motivo Di farlo Dai 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 Che è andato Sto boss Su Vabbè Quell'altro Andato Devo Cercare Adderessare Il pupone Se riesco Qua Niente Mi deve Venire Addosso Secondo me Non regge Non regge Però non gliela fa No Infatti non gliela fa Porco Due Fammi scappare Vediamo se riesco a scappare Gli manca proprio Aaaaa No Però magari riesco Eh Non ce la faccio In quei dieci secondi Potevo riuscire Arrestare qualcuno Ma non succederà No Peccato Riproviamo Un'altra volta Che cazzo Arriviamo sempre così vicino Poi Mi sento Che sto crepando Perché mi sabotano I miei uomini Se non fosse per loro Penso che sarebbe Tutto quanto Molto più semplice Andiamo col mega buff Dell'antidistruzione Qua Allora Dizio mio Vagli proprio dritto Addosso così Vai Sì Poi perché dovremmo Menargli le zampe Io non la so Sta cosa Non mi fa impazzire Il ghiaccio Nel zampe Tira una crocca Non ha colpito nessuno Oddio Ha colpito lui Però se Mamma mia che botta Ricurati Madre mia che botta Ah no 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 È grave È grave È grave Levati dalle palle Tu Levati dalle palle Tu non ti devi spostare Lui Non può Lui deve spostarsi Eh pure Dorian Pure Dorian Vedi Dorian non riesce Perché si sentono anime gemelle Devono stare vicino Vicino E ammazzarsi tra di loro Con il danno Dell'elettricità Perché se no Non Taccite pippo Allora Sai che c'è qua Poi il problema è che Io li devo far stare lontani Ma non troppo Perché così si riescono Ad aiutare E quindi questo è importante Ma Il problema è che Non riescono Non riescono proprio È più forte di loro Se devono ammazzare Tra di loro Allora uno qui No Che cazzo è sto pathfinding Ma vai qua E lui Lo metto Tipo qua Ma che Guarda che giro fa Ma che è sta roba Cos'è Cos'è questo pathfinding Guarda zio Facciamo così Spostati Al volo di qua Perché se no Se no Prendi un bel po' Di danni Lui Lui è inamovibile Non riesce a spostarsi Si sono spostati Loro Stranamente Lei si Lei si Un pochino vicino A lui Per assicurarsi Che quando c'è Almeno Si c'è l'overlap E si ammazzano A vicenda Questa che fa Vedete Imbecille Col botto Ce la fate Devo veramente Tenere premuto Destro No Ok Nego Nego Ma Grazie a tutti. Grazie a tutti. Una bella cosa? Visto che ci siamo un attimo avvicinati. Non è che c'ho... Eh no, però non c'ho uno scudo in fuori cooldown. Vabbè, mi toccherà cura a me. Niente, lui sta esplodendo. No, Johnny ti devi spostare qua però. Dovete ascoltare gli ordini che vi sto dando, per l'amor del cielo, perché sennò mega morite tutti. E tu tirati questo qua. Molto bene. Lei ha fatto un milione di danni. Noi speriamo che non riappaglia da qualche parte strana. Molto molto bello. Noi speriamo che non riappaglia da qualche parte. Noi speriamo che non riappaglia da qualche parte. Ah, 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 ah. Meno male che mi sono tirato lo scudo. Mi sa che lei ci stira. Però ce la dovremmo fare. Senza musica perde un po', però devo dire. Ce la fa a tirarla su? Vediamo un po'. Lei, lei, nooo. Che paio di palle. Ah, però con il fantasma potrei riuscire forse a tirare su... A parte gli manca mille e nove, sai che c'è? Oh, no, è morto proprio nel mentre che stavo a fare la super potentissima, quella violenta. Quanto gli manca? Novecento HP. Ce la faremo? Secondo me sì. Cavolo. Uh! Eh, ce l'abbiamo fatta. Non è stata facile. Al pelo. Uh, de preda. Nice. Dal fight. Nella morte e nel sacrificio. Un'armatura media. Fantastica. Questa la diamo a Cole. Copricapo da inquisitore. Poi lo facciamo. Cintura della guardia migliorata. Aumenta guardia massima del valore specificato. Ah, assorbimento vitale superbo. Dieci cura per cento dopo l'uccisione. Tanta roba. Dieci cura per cento. Bello, sangue di drago e robe varie. Fantastico. Questo della cura io lo darei a lei. Perché lei non c'ha neanche un anello, tra l'altro. Anello dell'assorbimento. Anche perché lei spesso e volentieri uccide le cose. Quindi lei che si può curare? Not bad. Black wall ha vinto. No, si prende sto venti guardia massima. Tac. Per quanto c'è va questo della cura? Io non so se la cura... Non si capisce mai quando è tradotto così. È poco comprensibile. Se la cura è inteso come quante cure ricevi. Anche se qua in realtà le cure praticamente non ci stanno. Non lo so. Vabbè. La morte nel sacrificio. Solo ladro. Questa qua la dobbiamo da cosa? Assolutamente. Potenziamenti. Vabbè. Ci abbiamo altre cose. Allora andiamo un attimo indietro. Andiamo a Carb Ronach. Carb Ronach. Voglio provare sto Lutz. Voglio vedere questo Lutz com'è. Il Lutz è importante. Allora. Ritorniamo con Serra, Dorian e Cole. Tanto il nostro draghetto l'abbiamo fatto. Alla fine è stato un bel fight. Armature. Lui tra l'altro può indossare pure... No. Questa qua. Nella morte nel... Uuuu. Bella. Difesa. Salute. Sbilanciare colpendo. E morendoci al 5 possibilità di ripristinare metà della salute. Che cazzo vuol dire? Che si... Ah, si cura anziché morire. Ok. Bello. Bello. Abbiamo fatto un ottimo acquisto. Sto ragazzo adesso è molto, molto più tanky. È stato un bel fight quello del drago, regà. Io direi che questa settimana ci possiamo fermare qui perché il tempo è finito. Ci vediamo la prossima settimana con altro Inquisition. E con altro Elden Ring. E God of War. E poi magari riprenderemo pure Darkest Dungeon appena mettono una patch nuova. Quindi vi ringrazio tantissimo per seguire il canale. Ci vediamo la prossima settimana. Dare tutto. Bella pips. E alla prossima. Ciao.